Bene, partiamo! Top 4 Buschi Schifo Enesimo game D&T contro... Sì, contro Warhead Elver Sì, l'annienta giocatori Schifo, inarrestabile L'uomo che è arrivato in perfect fino adesso Non ne ha perso... Non ne ha mai perso E il suo super... Eidon mi sembra funzionare Incredibile, ma vero Poi dopo non conosciamo l'intero storico del giocatore di questo foranino Però per il momento l'Eidon è stato... No, ma come carta la ritengo forte Non la ritengo particolarmente eccellente in questo matchup Però è sicuramente un'ottima scelta di me Fuori contro... Seadrift Insomma, carte molto buffe Vediamo come se la aveva ora in questo matchup Dove Buschi sicuramente è un giocatore molto... Era un secondo matchup On the side che si trova Eh... quello che fa tutte Non ce l'ha... 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 Eccola Non ce l'ha... Qua... Non toccostasse da 6 mesi, quindi si vuole già mettere in oltre Eh, non toccostasse da 6 mesi, siamo in top 4 all'invitation Beh, è andata bene No, ma al di là della battuta, lui è uno dei migliori giocatori di matri a base mistica Certo Quindi, è una certezza Far te schiso? Eh, Bob, vieni Bob, vieni Bob, Buschi contro Schifo, li vediamo questo Eidolon Eh sì E un altro dietro Un altro dietro Sì, gliel'abbiamo già detto Sì, potete partire? Sì, stanno nevando un judge perché hanno danno... Eh, te l'ho detto io Vabbè, Cinelli overplayed come judge, è andata così, avevamo questo in cantina E questo è andata No Come abbiamo detto il matchup, boh Eh, scritto, gioca questa sua lista un po' champagne Guardiamo la lista di Buschi Che è... Buschi è un Detentaxis Classico Classico, un mono bianco, un prelate che però fa da padrone del matchup Gioca con gli altri sider, che il ragazzo di lui non giocava Che non è molto forte in questo Questo matchup, no E poi, niente, di side abbiamo qualcosa di particolare La spada bianco nera Ci sono i calici, ci sono i calici dell'unico Due calici fanno la differenza Due calici, eh, questi davvero possano vincere la partita Sì Perché sono totalmente inaspettabile Ehm... Non si stanno giocando Allora, giocando online su MTGO, qualche volta li provi che te la mettono Beh, però è comunque un armato più taglio perché vuol dire che, ok, che blocchi Blocchi gran parte delle carte d'avversario, ma dopo non puoi giocare in spighe E comunque, ragazzi, scritto Terra del Verdez su Fiala Eh, Italia, Brainstorm E poi sempre che volevamo fare Esatto, flippiamo Neidolon, Neidolon Con Fulmine Stone Chase Mage Vabbè, Neidolon Stone Chase 24 Pulito, pulito Ciao Andro Beh, ehm... Ehm... Sicuramente i calici sono molto fighi Però Hanno la Sfiga Che Schizo sai comunque degli spaccai che fatti Sì Ovviamente Vanno sotto l'8 Che se ne vengono i 40 Sì Ovviamente sono strafori Però Vanno sotto l'8 Qui Schizo decide di fare Fulmine In Italia Discutibile Ma che non sei sempre Molto minacciato da questa Italia? Non penso Perché comunque questa Italia le aveva già Quindi Cioè Ne ha un'altra in mano Quindi Penso sia Particolarmente Per i colori tali E Buschi Pesca Un'altra Un'altra Talia E a Caragas Infatti Il problema di voltare talia E che a meno che non sia una cosa particolarmente impellente Ce n'è sempre un'altra dietro Cioè La probabilità è che ce ne sia un'altra dietro Schizo Sfeccia Che cosa Oltre cosa poterà? Sfeccia Eh Oltre cosa Ok Presto Questa cosa Grazie capelli. Allora qua altri 3 danni? Sì altri 3 danni e poi butta air per raggiungere l'altra persona. Il palas geler è interessante però c'è sempre il rischio che un mazzo come il suo possa fare. In questo caso il fatto che mi manno a San Cesar ti frega direttamente il monarca e hai dato il monarca al tuo avversario e molto difficilmente non lo arriverai. Ma in questa situazione forse fai ancora qualcosa perché comunque se attacchi ai due bestie giù costringi a bloccare l'avversario però il devret torna in gioco quindi tu puoi anche lanciare il suo... cioè per bloccare i tuoi burro. Sì sì hai il vantaggio che hai una pescata in più però non è... Bene ci sono due. Beh come si sta sviluppando la situazione? La cosa è che il nostro buschi ha fatto palas geler. Eh che ha levato derber. Però in mano il nostro scritto a San Cesar. Che ci farà diventare di nuovo il monarca. Esatto. Schitto prende due danni per l'Eidolon più un danno a Buschi e quindi ritorna ad Elver e diventa lo re. Sì. E il fatto è che adesso pesca il l'Eidolon. Cosa abbiamo in mano? Forche volte? Molto forte. Diciamo che il momento l'ha perso. Sì sì. Ma comunque non avevi fatto più di uno per uno. No esatto. No certo. Almeno che adesso... no no. Non c'è il monarca. Il monarca. Il monarca. Eh. Sì esatto. Cioè io a questo punto questi... io questi quattro danni li prendi... cioè ora il buschi sta pensando come attaccare. Io... io questi due danni d'Italia li prenderei. Sì sì sì. Questi si prendono senza dubbio. anche perché comunque hai... hai il doppio volare. Certo. Che decide di fare? Due danni presi. Ok. E ritorna al monarca? Ritorna al monarca. Ovviamente. Fa una pescata e poi lo vi prendete anche dopo. Sì. Ora mi sa che buschi abbia i servizi più in mano. Mi sono sicuro un cento perdito. Ho visto il Milan Crusader? No è il Milan Crusader. Mi sono sbagliato. Il Milan Crusader non è molto forte in questo momento. E i danni di Eidolon? Con questo? Con questo? Questo potrebbe essere un tappout... non particolarmente... È efficace. Sì sì. Perché... perché Schiso adesso potrebbe fare il tappo due qualche volta. Ti levo doppio pezzo. Meno con tutto. Forse anche con l'Eidolon? No. No. Lo teniamo. Attacchiamo per cinque... potremmo attaccare per cinque. Si flippa. Si flippa. Si flippa. Trigger. Abbiamo BrainStorm ma mi sembra molto più forte utilizzare... no. No. Allora si mette. 3. Ah non attaccheresti con niente eh? No attaccare solamente con lo Swarm Cesar che è pompato di Prowess. Certo. Diventa un po' più complicato forse adesso. Più lungo più che altro. Ma va ancora bene perché quei due blocchi Monarca non lo dimenti penso in tempi. Certo. Questo farà male. Allora intanto lui prende due danni per l'Eidolon. Sì. Qui vale male il doppio pezzo in questo caso è il doppio pezzo con un mana due vite. Terra. Attacchiamo per due. Otto. E peschiamo. Terra. È una terra dalla top che... Eh no. È che il programma intanto balla. Terra. Allora. E ora Buschino ha qualche problematica perché comunque il flippero qui spesso è un blocco. Perché leva un pezzo e basta. Due danni. E io glielo farei ridiventare il Monarca. Cioè gliela facciamo pescare questa carta. È inutile bloccare adesso. Soprattutto perché con cosa lo blocchi? Con l'Eidolon e a otto ogni spell che tira sono due danni meno da fare. Quasi quasi potrebbe anche starsi l'idea di bloccarlo per il fatto che se fa flicker wisp potrebbe anche. Inbuncarlo e rifare il target. Esatto. Quella secondo me era una giocare a volte. Però attaccando c'è il rischio di ti bloccarlo. No. Ma invece decide di prendere. Sì. Sì. Allora a questo punto sotto l'attacco lo avreste bloccato. Visto che sai che ha flicker wisp? Sì. Perché così ti mangia un pezzo questo turno. Però lui ha voluto tenerlo probabilmente per fare i danni di Eidolon. Perché comunque sei non è... Cioè... e poi puoi fare forze. Eh, quando devi guardare questo è così. Cioè metti il Seadrift in cima? No. Non so cosa sta mettendo. Però c'hai... metti il Seadrift che mi sta chiedendo la prima parte. Il Daze. Ah, è una Vendillion. Non era il Seadrift. Metti il Daze in cima. Fai forze. Flippi. E fai sei... fai tre. Quattro. E non fai sei precisi. Non l'ammazzo. Non l'ammazzo. Sei. A lui torna a scendere, mi sa. Non so che siamo. Talia. Eh, vabbè. Talia non fa assolutamente... No, in realtà Talia blocca l'Eidolon che però ti ammazza. Cioè ora sono cinque. Certo. Si gira... T'attacco e sei morto. Ok. E si marcia. Allora, vediamo la prossima lo sai. Allora... Sistemo un attimo i punti vita e guardiamo tutto. Ok. Allora... Per quanto riguarda la Sead... Ah, bene. Iscrito, come prima, Seiderà la Braid, Price of Progress, Smash... No, non Price of Progress, Smash... Izzet, Sulfur e Roltam. E leverà, come ha fatto prima, le Ports e i Price of Progress. Si, puoi lasciare un Price of Progress perché come avete dovuto vedere... Anche qui da... Si. Lui... E Buscini cerca di stare attento, però comunque... Si, si. A volte capita che funzioni. A quanto ho capito... Scrito... Tieni... Eh... E... Scende tra Forza e Days a seconda dell'On The Play e On The Droll. Ce l'ha spiegato prima. Ok. Invece Buscini... Eh, Siderà gli, sicuramente i Calici, cercando di non far... Di non farli rompere... E loccando il più possibile. Forse metterà... Forse si. Perché non hai tanto la Sead... E poi... Fatto Exile... Fatto Exile... Beh... Eh... Non... Secondo me quattro parte in questo match-up... Ci sono abbastanti... Eh... I Revoker, sicuramente... E i Crusade. Il resto... Terrei tutto. Hai quattro slot, quindi... Penso che la Seidata sia questa qua. Sicuramente è molto, molto... Non lo credo. Non lo credo. Beh... Un po'... Vediamo... Kit on Fire. Sì... Eh... O Guerra ed Elver. O Guerra ed Elver. Guerra ed Elver. Comunque, sì. No. Infatti, che vi pare? Intanto, quando devi giocare con dei mazzi interattivi, è chiaramente un mazzi molto bene. Appena becca un combo. E infatti lui ci ha detto, giocavo gli Eidolon apposta perché se lo trovo non ci vincano, non è. Però lo faccio... E fa qualcosa. Ma... La nuova carta... Qualcuno di voi l'ha provata? L'ha provata? Eh... Quella, per me, è una bellissima carta. Che... L'ho riposto in Barnum, anche se... Ha un po' in potenza di cliccarti con Fire Plus, per esempio... Certo. Fire Plus è difficile da castare sempre, non puoi giocare con dei tempisti complicati. Certo. Però deve essere rivelarla. E' una cosa negativa perché l'avversario si organizza e comunque non puoi lanciarla. Sì. Però ti permette di pescare il numero che è un mazzo del genere. E in questo mazzo qua? In questo mazzo potrebbe arrivare. Perché soprattutto le tiri fino al prossimo turno. Ha solo un problema, che se te ti tiri del Manamo per giocarla, perdi un danno di Prowess, con le bestie. Certo. Quindi devi stare un po' attento. E' una carta interessante, però... Sì, perché... Perché in Moderna... In Moderna sta facendo successo. Barnum ha avuto veramente un grande upgrade. Con quello e il nuovo botto. E il nuovo botto che è il Chain Lightning. Sì. In Moderna sta avendo successo e Barnum, per esempio, gioca una specie di Fire Blood in quattro per perché sono le quattro Selva di Cocci che fa fulmine spaccandosi una onda anche. E però anche a volte non lo tira, a volte non le riesce a tirare, ma preferisce farsene l'esiliare per avere molti botti a un mana o a zero. Sono molto forti perché quando fai divination per due botti che riesci a tirare sono tanti la cosa bella di questa carta è che ti proteste molto bene in un'unità a base lea come Chiesa. Certo. Quindi sopravvivi. Perché è un pesco due che rimane non zoccato, eh. Cioè non mi puoi fare ture accelevante. Anche Contracombo ha il suo vantaggio. Anche se tu non usi effettivamente il counter che magari riveli, vuol dire che tu per due turni non fai niente. Brava. O un tuo. Sì sì. Però magari contro Show Intel. Io te le rivelo, te non puoi fare a fine intuition perché sai che c'è forza e del tuo non con il show. Cioè condiziona la giocatta dopo. Vero. E un maligan per entrambi. Chi soffre di più? Beh, chi... E di qua abbiamo un keep. Probabile. Io credo anzi sicuro che è Terra, Delver, Forza, Trimstorm, una Monaca e una Alpa X che noi ho visto. Però che avrei tenuto quasi quel maligan lì. C'è tutto quello che vuole. C'è il... C'è il... Il ha cercato. Maligan a 5 di Buschi che terrà qualsiasi mano. Beh, quello è easy keep. A 2 terre quindi sai che è un po' benissimo. Sì. Tenza. Vabbè, scusa, scusa. Ma montagna. Ma montagna. Ma montagna. Ma montagna. Però io non la capisco questa. Aveva anche l'isola in mano e il desert. No. Questa è un'isola. No, no. È Sette Drift. Ma no. Non riuscirò mai a capire cosa fa quella parte. Eh, però boh, è un maligno che avreste tenuto allora in questo caso. Eh, ma poi che farai cinto. Perché comunque con lo scry hai la possibilità di... Di trovare una fonte blu. Sì. È una fonte che comunque... No, no, no. Il G-Lightning non l'avreste tirato. No, no, no. Beh, gioca tutte le due. Sì. Questo vestito è tra le due il turno dopo. Quindi gliela vuoi ammazzare. Sì. 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 Si viene open il mano bianco così può fare la sua spinta. Sì. Ok. Quando non hai niente da fare... Eh, sì, ti ho tenuto una mano molto... Molto rischioso. Molto rischioso. Sì. Solo che anche Buschino ha più o niente quella montagna. Non ci può andare quella pasta e... Vabbè, ma ora io il fulmine lo tirerengo. Pum. Il G-Lightning. Adesso... Adesso lo fai. Lo tiri, se c'ha spiga ce l'ha fatta. Ora, ragazzi. Prendi due, vai a sedici. E di là c'è una landa e una spada, mi sembra. Sì. E ora... Eh sì, sì, ora... Non c'è niente. 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 Certo. Passo. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Adesso arriva un belve, arriva un belve. Eh, lo fai. Non vedo motivo per non farlo. Cioè, potresti... Cioè, non hai motivo per cantrippare. Questa spada è molto forte, no? È invece. No, è invece. No, però, se vuoi cantrippare, probabilmente, non l'avrei fatto Sorcery, perché te puoi immaginare che lui potrebbe avere Basta. Eh no, perché tu hai comunque... Tu hai comunque dei compari Bastery. Però così... Cioè, la mia idea è... Io ho Dez in mano. Sì. Lui... Ora, testi le lande, tutto cambia. probabilmente. Però, io potrei fare Passo, lui ti fa Basta, vorrei bastare Vulcanica. Ti fai Brainstorm, ti fai Dez sulla Brainstorm, la paghi con la montagna e non vai sotto. Cioè, per un danno, se non pescavi l'Handa, ritornavi come prima. Vuoi fare la stessa cosa se topdecki anche io solamente un gol per quella del RIS. Però, o l'Handa, non lo so... Boh... È un bel rischio. Cioè, io... Io ci avrei pensato più veloce, eh. Per me qui la scelta era... Dei... Delber? 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 Oppure... Se devi fare Praternissorm, palla in instante, palla solo a 6 perché tanto devi... Per pomparire Monaster. Sì. Ok. Ah, ti devi fare qui. Prova. Beh, ora Buschi si sparerà questa Basta e Flitter Whisper. Eh, torno Flitter Whisper. Fareste Flitter Whisper Equipo? Sì. Beh. Allora, se tu riesci a rifare con una spada che protegge la riusso... E invece non lo puoi fare. Diventi... Non lo puoi fare, devi fare Flipper Whisper. Sì. Avrà scelto Elementale? Non... Non lo so, bisogna vedere cosa... Adesso la... La cambia. Si pesca. Ah, ho l'altra terra. Vedete? Ci sono. Però... Adesso devi fare Ponga per cercare il Ponga. Se no, non ne esci. La tua Nemesi non ha una race che può fare questa... Questa partita. Questa è un'altra partita. Mi piace un'altra partita. E' un'altra partita. Ma non si può fare questa partita. Questa partita è un'altra partita. E' un'altra partita. si pompa no 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 ma shuffles non vedo per fare altro eh beh c'è anche te la manda a finire nella casa eh è una carta che si potrebbe provare la verde è troppo bella diciamo che devi sopportare la spada gli fai pescare due carte non rischiai che ogni che pesca la voglio fare l'unico grande difetto è che lui ora ti leverà ti fa tre danni e due danni sulla spada sono due danni in più ho pescato la spiglia facciamo la spiglia adesso la partita ora la partita si ha pescato talia la terra ce l'abbiamo e ora però è più lunga la storia però ora devi levare quella spada lì adesso il nipo può fare devi fare il time inizio beh feccio levo la spada perchè sennò vuole fare nemesi ma io la farei il turno dopo nemesi se la devo fare la faccio dopo che ho levato quella spada adesso aspetta un po' quando attacca così ci sta beh però Buschi ha ripreso questo game probabilmente e con quello lì è un po' difficile spiga e calici spiga e calici calici potrebbe danniggiare Qui qua spacca la schiena, sono cinque, vai a sette e arriva un caliceone Qua lui, si accettano in mano questo caliceone, fa la nemesi che ti danneggia e soprattutto tanti dei nostri botti No, e tanti dei nostri botti vanno a... Ah, questo potrebbe... E siamo a quattro Non possiamo frecciare Blinky flicker wisp che viene a fine turno, che brincherà per tutto il turno dopo L'alto flicker sono due Molto probabilmente ti deve a montagna Così lui, se vuole, deve specciare Sì, muore Sì, e infatti giustamente Penso non ci siano out in questo game No, no, cioè Hult Sulfur Sulfur Ecco, Sulfur e l'out Sì, no, due festate Che poi Sì, è guà Che poi Non puoi tirare nemmeno un country Poi fare fetch vampi E lo Che non ti arrestano Lo puoi fare E infatti Vedi, ha seguito il mio consiglio Ora gli farà bussi Se succede Se succede è andata così Facciamo un'altra basica Tanto Se è morto il turno dopo Cambiamo Sulfur E la lega del turno Adesso con l'unico out Sono due pescati O StatiCast e o Sulfur Anche StatiCast Non è bassissimissimo Guarda mescolo Lo metto in cima Te busti Lo pesco se è morto Ah perché Io se Se entra Sulfur O StatiCast Questa partita Lo finiamo qui, eh? Eh sì Perché StatiCast Ci è Eccolo? No, finito No, eh sì Andiamo al G3 Andiamo al G3 Non c'è altra soluzione Guarda Rimiscola tutto Almeno la partita è morta Ecco È combattuta Eh Il mio team Che entra quella Vai Lui Non concedi solo per Lo spettacolo Ma sì 4 C'è morto Ah Guarda Gli sta facendo Con le mani Ha finto di tappare 3 No Non so se avete notato Ed è riuscito a riprendere Una partita Ma gli danno a 5 Però Giuro Anche se fingeri tappare 3 Io attaccavo E' vero Perché tanto non ti costava nulla Eh ma no Perché intanto se ce l'hai sono morto Quindi Ehm Bene Ehm Si riparte Si Ora riparte Werder d'Elve Però questa era stata una buona chance Per chiudere tutto Molto in fretta Beh sì Si si fa la vera Però dai Per guarda Dato che i Daze Sono molto più devoli Sicuramente Qui Un ragazzo fa notare Calici ha una spiga Beh Sono due calici Che si mettono in situazioni Dove servono tanto Quindi Si può andare in conto Anche a questo contrasto E' un Anombo Ma sicuramente Ti Cioè Quando fai calici E non tiri le spighe Sei già posto Si va bene Se tu hai proprio bisogno Di dover tirare una spiga sotto calice Esiste anche flicker whisper Che la può allevare Si ma te lo alleva definitivamente Certo Si 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 Ne estremi calci Cioè Non fai un calice No Ho capito Però Se Mi metti in una situazione Che pensi di essere sotto controllo Poi dopo La situazione Ti sfugge di mano E ti voglio fare spiga Hai questo Awe Brutto Ma Lui comunque ha una curva abbastanza pesante Quindi a volte devi giocare sotto Tanto devi giocare sotto d'Ave Soprattutto se Non c'è Piala Giù Quindi Di solito fai lo split Due forze Due d'Ave Ma come ti fai ragazzi Io voglio comprare Io voglio comprare Io voglio comprare Sa firma italiana Cosa Io compro Ah e vuoi fare davvero la Si perché Già è in top 4 Già è in top 4 Quindi Io ci devo Eh vai a sentire come va la partita Io sono Molto Curioso Di questo Di questo Eh Di qualcosa Eh Devo sentire Eh Guardate Bene 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 E Bene Bene, io se, prometto, se Ragnieri fa finale, io ti lascio a commentare la finale e vado a comprare quattro medaglioni fuori No, ma io, io non lo so Dai facciamo così, se lui vince te li regalo io quattro medaglioni Due, due ne ho, solo due Ha perso Bene, finito Il mio, vabbè, un Vicont che era settato per i Mirror Ma i medaglioni fanno stare a entrambi da Spellman No, no, ok, se no contro Omnitel, cioè, ma, guarda, ti sconto anche le tue Anche perché scontare il Blue in generale per tutti, non c'è mai un'altra No, allora, terra d'Harvard, terra fiala, le partenze più forti le abbiamo fatte I Malik hanno ucciso lo Stati No, no No, però non ha fatto il, la forza Perché probabilmente non ha pitch No, se l'abbiamo, mi sa fondere O, forse era la pezza Eh, non lo so, o la pezza o il seradice Oppure ha semplicemente detto, me la tengo per una spiga, perché, in questa, con questa mano Eh sì, perché ha una mano piena di bestie Non lo so, è una piena di due bestie, me la tengo per la spiga, non funziona, però, non lo so Tieni, oh, e io, il fatto è che è il minus della cima Eh, eh, ora, ragazzo, guarda che ora devi correre Eh sì, qua ha messo l'acceleratore Eh, ora te fai il tuo pezzettino, quello lì, e va C'ha la spiga con il N1 Sì, sì, no, no, c'ha la forza, con il pitch Ha deciso di non spigare Ma si può anche stare, non è una scelta Però comunque, magari La partenza gonfiana ci mette un po' in granare E se tu hai una mano molto esplosiva Come questa Se fai una spell Vedi? Se fai spell Flip o Delver Dopo sono sette danni, eh, se a dieci No, non l'ha fatto Ho capito perché Perché lui aveva già una Monastery Aveva il Pond La sua giocata, se non fossi stato quella Monastery Se avessi stato Monastery Pond Quindi che scava, pompava No, eh, sì, però il pitch c'era Era Stone Chaser Mage Che ora è Terra, Stone Chaser, Bolt Si viene o? Eh, no, invece no Oh, io ce l'ho provato Ma perché? Non è un panno di questo Lo gioca, ma non è molto un panno Non lo so, magari No, perché se no non ha più pitch per forza Però si sta andando sempre in peggio Sì, ci poteva stare E mandarlo a 14 Con C Judgment O ora lo ampli Sì, se sei arrivato a questo punto lo fai Anche perché Oggettivamente Qualunque veste che può fare i muschi Ora Non viene counterato Quindi Devi tenere il tuo spazio Sì Ma cos'è che è? Che più fatti Non lo so Perché alla fine È passata È passata la fiata È passata la spiga È passato Forse si può passare questo Quindi non so che cosa Ok, è passato Non lo so Non so cosa ti Di cosa hai paura ora Vabbè Vabbè Ora c'è Guardi Perché? Perché non è? Spondiamo una volta Le fai di questa moda La può fare tantissima E invece? Non ti no Non lo so Non è che ha paura di Italia Sì, ma Ma allora Stone Chaser Il Major lo fai Non lo fai perché non vuoi tirare quella forza Ma ormai confiala il turno dopo a tre E te? A pacotti Allora Il mio racconto di una toccata buona sarebbe A seconda di quello che prende Decide di si fare molto meno Perché se prende citte Può magari aspettare Spada? O Batterspoon? Forse se prende Batterspoon Devi voltare adesso Qui puoi aspettare perché No No, tanto vale farlo adesso Viedo scusa io perché Con gitte magari Puoi dire Adesso lui paga due La gitte La echippa Se tu fai i bolt Lui ha preso un turno Cioè Quindi Eh no Gliel'ha boltata adesso E Buschi ha salato i pd Ci mostra Un air spot remover in più Ti tappi Fai quella Oh La tiri lì La forza Ormai non sappia neanche più Che cosa Dobbiamo rimuovere Però ora La forza Non lo so Se la vuoi tirare Perché se ti parte L'ultimo bit Tante è finito Lo so Però Comunque è una cosa Che dovrebbe essere Doccata Molto più agressiva Eh C'è stato molto diverso Tutta la partita Forse avrei fatto La forza Sulla spira Del del vero È un cibo di pan Deve essere Molto più agressivo Aveva una spinta Perché se te facevi La forza sul del vero Il del vero E trippava Facevi Entravi per 7 Più fulmine 10 12 Era a 2 Ora Questo è fire blast Sì Penso di sì Cioè C'è mangiato Tuttissimi Non è stato lucido Fai solo 9 10 11 12 Lo può mandare a 2 Perché è la stessa moda Sì sì Ora con questi danni Lo mandi a 2 Cioè già con la roba Che hai in mano Però lo potevi aver mandato A 2 Nel turno In cui Glute ha fatto spiga Su del vero Lì andava a 2 E poi Ti scavi Il secondo bolt E il fire blast Sì Non è stato lucido Poteva ottimizzare Un po' E' sempre il problema Di tenere il force on the play Che in teoria Tu dovresti Spingere l'acceleratore Buttare tutto quello che hai Prima che Riesca a stabilizzare il board Force would dire Già una casinata Che è un aspetto Che di solito Non gli vale la pena No Che non è nemmeno forte Sì No no Avrei probabilmente Giocato diverso Devo dire la verità E perché ora Poi ti è finito la mano Lui ti fa spiga Sì sì La forza non la va più E ora rimani Con quella forza Del cavolo in mano Quella forza Quella carta Che tu non hai voluto Picciare Ti ha fatto una banda In campo Niente Invece Se Forzavi Quell'attacchio di spiga E ti si flippava il delber E quel delber Lo cavalcavi Ma menava gottissimo Ma poi Avendo Avendo Monaca In campo Tu avresti Le due monache Per il turno Se flippava il delber Ti potevi fare Fulmine E attaccare Per Sette Nove E dieci Undici Dodici Danni In quella botta Lì Che Tanta roba Adesso vediamo Tutta la tua Buzzi Perché In risposta Alla pezza Tu potete Un finamento Di sguardo Un trelato E non Minuto Cioè Quindi Uno Può bloccare Di 100 Uno Blocco No Non penso Sono pazza Perché Non No Per un danno Che sei Poi Che con la monaca Fa solo un danno E poi Ora Hai rip Il prelato A spada E finito Se riesci a ripare Ok Perché la rimozione A due Non ce l'hai Mare No Fireblast E No Fireblast E La E La Forza Il prelato Il Ripato Di Spada Si che però Un danno Eh 13 Cioè Erano tantissimi In più I danni Anche perché Il Patrick Sympie È stato Il top black Per ruptura Oh Cioè Qualcuno Non crede Che In top 4 A questo invitation C'è stato Un mazzo Come dal Invece Sì Se andate a vedere Il buon veranieri Che è in top Ha fatto L'abbiamo Streamato Gli ha fatto Fireblast Quindi Uno in più E Sempre sui danni Siamo a 8 Sì Però Tutto il Gas No 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 Ha guadagnato Solo un danno Perché l'ha fatto Tutto E l'altro Ah Ok No Era dato a 14 A 13 È finita Cioè Ora Ora voglia No Non è finita Però Ponder Ponder Lo tiri Sì Sì Purtroppo Devi cercarti Recuperare Va bene Anche prendere un fisso Per cose E venire Poi In cima Allora A questo punto Muschi qua Cioè Se la merita un po' di più La vita Sì Sì Probabilmente Perché Probabilmente Se Schiso Avesse fatto Giocate diverse Avrebbe potuto Vincere Questa partita Senza Cioè Vincere L'avrebbe segnato Perché L'aveva mandato A due Mamma 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 La chiediamo Eh Però Se entra E ora Ci si rinforza Su mamma Oh Se no Se muori Muori Diventa Si No E ora Ora Cioè Ora Se non la chiedi Nemmeno su mamma Io non so Che carte può Mio Nel mazzo Mono bianco È Cataclysm Ghia Rook Cioè Mi viene in mente Armageddon No Non lo so Ok Non so cosa teme Entrata E la pippata Beh Quella forza Gli morirà in mano Gli tappa la terra Dimmi che fa La pippata E ci aveva anche Il bolt E ora Cosa facciamo No lo so Venga No io Fai la tappa d'auto Si Appunto Allora Viene a forzare Ma i porti Quello voleva Viene a perdere Zincanti Perché se no Diciamo Un blu Dele gare Eh si Ho capito Ma Aveva fonda Cioè Dipendeva Tutto da quello Che Ora Non ha usato Il blu Che gli ha tappato Di porta Per fare Branza Quello ci sta Che vuol dire Che ti peschi Fai un testo A molto di scarsa Si E ha senso Però Io Non credo Nemesi Ma questa Fa cinque danni A turno Intanto Dopo che Dopo che Due Lo dico Dopo che due Cams e Jasmine Sono andati via Vuol dire che Nemesi Entra Quello Però Vi lascia Più Il listo Non hai visto Già Dalla parte Di cusse Si Però Se già Ti arrivi Al turno Dopo Ti arrivi E Una Se già Ti arrivi Al turno Dopo Una Nemesi E Mi si Lascia Un po' Di palta E Peste In qua Tra Uno Due Sì No Però Si Lo so Pesca Di cinque Pesca Due A turno A differenza Sua Non so Quella Fa Sono Due Cioè Si Invece Mi sa Che l'ha Tenuto In mano L'ha Tenuto Fino Alla Fin Ok Ah Mi ha Scritto Sera Niente Ora Io credo Che il Buschi Sia Pienamente In Controllo Ha Tenuto Quella Forza Ti tappa La 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 Andra Te Non Peschi La Andra Non Mi sa che non l'ha messa per Per tenere la forza Sì No Però Però In cima Non ci mettere Bolle Mettici la terra Così la peschi e fai neve Sì Appunto Cioè 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 Annuncio Che non faremo Questa intervista Purtroppo Ma Facciamo L'intervista Dei finalisti Insieme Perché C'è Il Balser Entra un po' Qui Nella sala E Sì Dobbiamo Accelerare I tempi Per Riuscire A Liberare La sala Tra 40 minuti La finale A tempo Quindi No Non è a tempo Però In teoria Tra 40 minuti Dovrebbe essere Tutto smontato Quindi Finita Questa partita Andiamo avanti Poi Prendiamo I finalisti Insieme Eh no Eh sì Eh Ha perso Medaglioni Quindi Omnitel Contro Eh Beh Non ha un brutto Matchup Forse Da nessuno Dei due Allora Sicuramente Da Well Delve Sta benissimo Nettamente Perché Anche lì Avron L'avrebbe salvato A meno che Non avesse avuto La mano No Ma poi Secondo me La versione Di Zorzan Sta meglio Anche Da Death in Taxis Rispetto a Uno Schoentel Normal Con Can English E con I Rosso Sì Ok È Monoblu Con lo Splash Di Rosso Per Pyroclasm Cosile Creturn Cosile Creturn E soprattutto Perché Caracca No Non è Gioca E soprattutto Non ha Non soffre Tra virgolette Il bounce Della bestia Perché può scombare Con Can English O fare E' proprio Faccio Un turno Stacco Intanto Qua una spada Va Sì E qui Stai tirando Mite vittime Che fare la spada Due Sì Più che altro È che proprio Partiamo dall'idea Che la giocata Di Cioè L'inserimento Di Force In questo momento È On the play Che è sbagliato Si è sbagliato Ok Se Te l'hai Inserita Ci sarà un motivo Ci sarà qualcosa Che vuoi togliere Questa è la mia domanda Esatto Però non siamo riusciti A capire Cosa Volevitorio Cioè Perché gli ha fatto Di tutto e di più Le bombe le ha fatte Già Se la di primo Si potrà levare Sì Dopo una scelta Dici Voglio fare Non voglio fare Le varie Perché ho una mano Molto aggro Però poi Devi seguirle Le due Perché non vanno Da dove Beh no No Qui Non lo so Io Non so Cosa hai preso A schifo Cioè Sicuramente Io avrei fatto Giocata di Io ho un'idea Ho una teoria Hanno comprato Hanno comprato La partita E schifo Stai perdendo posto Sì Comunque Battleschool Credo non ti aiuti Vabbè Concediamo Per favore È l'ultimo Che augurava Il token Di dall'olio È Poesia Bene Ci rivediamo A brevissimo Con la finale